Gabriella Aiello, eccola! Una voce meravigliosa! Ma soprattutto, visto che veniamo da un laboratorio, con il coro a cappello. Quindi questa sera è un contributo di tutti i ragazzi, le ragazze del coro a cappello. E quello che vi faremo ascoltare è un canto, un rom, della festa di San Giorgio. E il testo dice, è la festa di San Giorgio, c'è da festeggiare perché è primavera, ma sono senza casa e non posso farlo. In questo caso, il coro di San Giorgio, è un coro a cappello. No, 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 no. In Sessore non parlerebbe come ragazzi, da Roma potere. C'è stato il παrio e non so, così aspetivo in Sessuia. C'è il suo conoscuto. Ma la mia carica è la famiglia. Sì. Grazie. Orochena 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 Amaro vivere per elezzi Sao Roma daje Sao Roma babo babo Sao Roma odaje Sao Roma babo babo Amaro vivere per elezzi Sao Roma odaje Sao Roma babo Amaro vivere per elezzi Amaro vivere Amaro vivere Amaro vivere per elezzi Sao Roma daje Sao Roma babo babo Sao Roma odaje Sao Roma babo babo Amaro vivere per elezzi Amaro vivere per elezzi Sao Roma odaje Amaro vivere per elezzi Sao Roma babo babo Sao Roma odaje Sao Roma babo babo Amaro vivere per elezzi Amaro vivere per elezzi Sao Roma odaje Amaro vivere per elezzi Sao Roma odaje Sao Roma odaje Sao Roma odaje Amaro vivere per elezzi Amaro vivere per elezzi Amaro vivere per elezzi Amaro vivere per elezzi Amaro vivere per elezzi